Il coronavirus è scomparso, ma a distanza di circa tre mesi i problemi di salute sono rimasti. Tra marzo e aprile, dopo 27 giorni di ricovero di cui 12 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, William Crepaldi, 54enne di San Michele al Tagliamento, aveva perso 18 kg, non riusciva a camminare e faticava a respirare. Ora ha voluto rendere pubblica la sua esperienza attraverso l'Ulss4 Veneto Orientale perché ancora oggi, ha raccontato, continua a respirare con difficoltà, si affatica subito, perde la memoria, è spesso poco lucido, gli mancano automatismi motori nel fare le cose più banali. Crepaldi si racconta come uno sportivo che non aveva mai sofferto un problema di salute e conduceva una vita sana e proprio per questo ha voluto dire che nessuno è escluso da questo pericolo e invitare tutti a non prendere con leggerezza il Covid. Siate attenti alla vostra salute e a quella degli altri proteggendovi e vaccinandovi, ha detto, perché ogni singolo contagio può coinvolgere altre persone causando quello che è successo a me o peggio ancora la morte. Tutti ci sentiamo invincibili e pensiamo che il virus non ci possa raggiungere, ha concluso William Crepaldi, ma non è così.